Tutto pronto per San Cataldese Catania, turno preliminare di Coppa Italia di Serie D in programma domenica 21 alle ore 16 allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Si prevede il tutto esaurito sugli spalti, il pubblico delle grandi occasioni per la prima assoluta del nuovo Catania, che potrà contare sul sostegno di diverse centinaia di tifosi. Intanto la società verde amaranto ha tesserato l'attaccante Gabriele Mastrosimone, che ha giocato anche nelle giovanili del Catania. Mastrosimone classe 2004 sarà immediatamente a disposizione del tecnico Matteo Vullo e potrà scendere in campo, anche contro gli etnei. A San Cataldo c'è grande attesa per l'evento, sicuramente di portata storica per la città, dopo quello vissuto in occasione della gara di campionato con il Bari. Nell'ambito del turno preliminare di Coppa, previsti anche Cassino Gladiator, Paganese Puteolana, Angri Palmese, Barletta Matese, Lavello Casarano, Nardò Martina, Matera Altamura, Locri Vibbonese e Castrovillari San Luca. La vincente di San Cataldo e Catania affronterà domenica 28 il Paternò e il 28 per il primo turno prevista anche Trapani-Licata. Inoltre scenderanno in campo Città di Sant'Agata, Cittanovese, Santa Maria Cilento e la Mezzia Terme.